Musica Benvenuti alla TG10, l'apertura del telegiornale, oggi noi la dedichiamo alla storia di Salvatore Spene, il giovane di 44 anni, sposato e padre di due bambini, che in Germania continua ad essere sottoposto ad urgenti cure mediche dopo aver superato un intervento chirurgico a Milano. A Gela, da alcuni mesi a questa parte è scattata una gara di solidarietà, una raccolta di fondi che permette di sostenere le costosissime cure. Oggi noi abbiamo incontrato Salvatore, sentiamo cosa ha detto. Salvatore, intanto ti chiedo subito come stai. Stamattina è bene perché come ogni mattina esco con padre Pio, perché è il santo che mi intercede con la mano divina, perché solo a Dio credo e penso che solo lui mi potrà salvare la vita. E poi sono anche io arrabbiato con lui perché non ce la farà, perché già uno l'ho tolto nel 2013 e l'ho debellato. Anche questo che mi è venuto nel cervello lo distruggerò. Ma come hai scoperto di avere questa... L'ho scoperto mentre ero che parlavo con mia moglie a lungomare, mi sono accasciato pensando a mia moglie che fosse un infarto e poi da lì andando in ospedale mi hanno detto tutta la situazione come era, dagli esami che mi hanno fatto. E tu sei sottoposto alle cure in Germania? E ora mi sono sottoposto alle cure in Germania e quando faccio le cure sto bene, devo essere singere, mi fanno stare bene. Certo, la rabbia che ho dentro ce l'ho con lui perché lo devo distruggere, però è l'invalidità, il fatto che non riesco a fare più le scale correndo, alzarmi dalla sedia con affanno e poi tutte le macchinette appese per fare le flebo. Il resto penso di essere tosto. C'è stata una grande partecipazione di amici, conoscenti, parenti, tutti sono staretti attorno a Totospene perché la cittadinanza quando vuole riesce ad aiutare. Questo è importante. Io ho sempre detto che Gela è una grande città, io l'ho sempre chiamata Mamma Gela, ho pubblicato sui Sege Network, grazie a tutti i gelesi, grazie a mamma Gela, come sempre ringraziato ogni giorno, grazie a tutti, amici miei gelesi, tutti bambini, piccoli, grazie a tutti, siete fantastici. C'è un numero che contrassegna la tua quotidianità, è del 17, perché? È un numero angelico degli angeli, io mi sono sentito male il 17 luglio 2015, dimesso dall'ospedale dopo l'intervento il 17 agosto 2015, e tante altre cose, sempre il 17, non per caso io pubblico il 17 su mio account Facebook. E sei partito per il servizio di leva anche il 17, era di venerdì di novembre, del 90. Te lo ricordi meglio di me perché tu eri un militone insieme a me, quindi abbiamo fatto un militare assieme, e vuol dire che questi angeli con la mano divina mi aiuteranno. Ce la faccio ragazzi, ce la facciamo tutti, tutti, grazie. Regali di Natale all'insegna della solidarietà, un intero gruppo di amici di Salvatore Spene ha messo in moto la macchina organizzativa, allestendo un vero e proprio bazar dove sarà possibile trovare oggetti di varia natura ed utilizzo, in cambio di un prezzo simbolico per sostenere le costosissime cure che consentono a Salvatore di stare meglio. Il punto allestito è in pieno centro storico, in corso Vittorio Emanuele 322. Molti commercianti hanno già aderito con generosità all'iniziativa, devolvendo articoli dei loro regozzi o mettendo a disposizione gratuitamente i locali. Siamo certi che i gioresi anche questa volta sapranno dare il meglio di loro stessi, dando un valore aggiunto ai regali di Natale. Cambiamo argomento, sono i carabinieri di Gela che indagano sull'incendio che si è sviluppato la scorsa notte all'interno di un garage di via Tartaglia a ridosso di via Venezia. Le fiamme hanno colpito una Ford Focus intestata ad un'auto trasportatore di 60 anni, ma utilizzata dalla moglie un'operaia. All'interno delle garage, che sarebbe stato forzato, c'erano altre due auto che non hanno subito danni. La polizia ha segnalato tre giovani gioresi trovati in possesso di una modica quantità di stupefacente, 4 grammi, dichiarata per uso personale. Inoltre è stato denunciato un cittadino rumeno di 26 anni sorpreso a guidare veicoli senza avere mai conseguito la patente. Un mondo spesso dimenticato e bistrattato dalla politica locale, un mondo che invece andrebbe attenzionato con particolare sensibilità, un mondo che è il nostro mondo di domani, ossia quello delle nuove generazioni, il mondo della scuola, che ha sempre interessato poco gli amministratori di nostri politici. Capitoli di bilancio quasi sempre azzerati per la scuola, mentre quelli di settori molto meno importanti gonfiati all'inverosimile. Forse perché i bambini non votano e quindi non necessitano di quella attenzione che i nostri politici hanno sempre riservato alla categoria elettori. Fatto sta che il pianeta scuola a Gela è stato sempre considerato l'ultima ruota del carro nella scala degli interessi delle varie amministrazioni e dei vari ras politici della città del Golfo. Ieri sera Agorà ha acceso i suoi riflettori sulla scuola gelese e sui problemi più gravi ed impellenti che stanno caratterizzando l'attualità di questo pianeta. Nel marasma di proteste e contestazioni che quotidianamente si registrano davanti al municipio di Gela, negli ultimi tempi si sono aggiunti i sit-in di protesta dei genitori degli alunni di alcuni plessi scolastici cittadini, la Giovanni XXIII in primis, e quello delle lavoratrici del servizio di riflessione scolastica, ancora fermo e chissà per quanto tempo ancora. Il tanto criticato piano di dimensionamento scolastico ed il mancato avvio del servizio di menza scolastica sono stati al centro del dibattito di Agorà, andato in onda ieri sera su Canale 10. Il rotocalco settimanale di approfondimento giornalistico della nostra redazione ha ospitato due assessori dell'aggiunta pentastellata guidata dal sindaco Domenico Messinese, ossia Chetti Damante, titolare del settore della pubblica istruzione, e Pietro Lorefice che ha seguito passo passo la tortuosa strada del piano di dimensionamento scolastico locale. Assieme ai due amministratori gelesi hanno arricchito il salotto televisivo di Agorà tre dirigenti scolastici locali, ossia Maurizio Tedesco dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo, Clizia Nobile del secondo circolo didattico e Giovanna Palazzolo dell'Istituto Comprensivo San Francesco. Non è mancata poi la scheda firmata da Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro, che come sempre ha lanciato frecciate al vetriolo sulla tematica che si è dibattuta in studio. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10, oppure dal primo pomeriggio di oggi sui nostri indirizzi social il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta sui teleschermi di Canale 10 venerdì prossimo in prima serata con nuovi ospiti ed argomenti che riguardano Gela e di Gelesi. Si concludono oggi i tre seminari promossi dal GAC Unicità del Golfo di Gela. Dopo Lampedusa e Licata, appuntamento oggi in città alle 16.30 nella Pinacoteca Comunale. Saranno presentati gli obiettivi e le azioni del piano di sviluppo locale ed illustrati gli scenari e le opportunità offerte dalla nuova programmazione 2014-2020. Concluderà l'evento una tavola rotonda con la partecipazione di esperti del settore della pesca, rappresentanti delle istituzioni locali e delle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori. Trentasettesima giornata del donatore. Si terrà domani nella sala del Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela, promossa dall'ADAS. Appuntamento alle 16.30. Prevista la presenza di Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale FIDAS e dei cabartisti Giulio Amico e Cristian Abbate, meglio conosciuti come Fusibili Show. Durante la mattinata, alle 8, nel centro di raccolta visto di Via degli Appennini 5, si terrà una donazione di sangue. Alle 10.30 nella chiesa Regina Pacis, celebrazione della messa. Una scuola che si apre al territorio, come sempre, è la Luigi Capuana, diretta da Cetta Mongelli. Nei pressi di Via Europa, Via Palazzi e Via Benedetto Croce sono numerose le attività che si realizzano al fine di permettere agli alunni di trovare proprio nella scuola un punto di incontro. Le attività sono laboratoriali e multidisciplinari. Stiamo cominciando un percorso per imbarare i diritti dei bambini di tutto il mondo che devono essere sempre rispettati dagli adulti. Per esempio il diritto all'istruzione, al gioco, alla vita, alla crescita, all'istruzione e alla salute. E ce ne sono ancora tanti altri. Da i bambini in movimento, giocandosi in para, a il mare da mare. Dalla scoperta di un mondo diritto ai miti e sportivamente a scuola. Ed ancora conoscere, amare e valorizzare il patrimonio archeologico di Gela con le mini guide. Il nostro POF ha un titolo che è l'attenzione al territorio, l'apertura al territorio, la valorizzazione del territorio. In questa prospettiva abbiamo chiesto aiuto alle varie associazioni di sostenerci nel nostro progetto che ha una finalità, che è la competenza. Al di là delle conoscenze, al di là delle abilità, oltre noi lavoreremo con una didattica per competenze. Perché alla competenza vogliamo arrivare. Cioè all'autonomia, cioè alla professionalità di domani, di un cittadino. Per gli alunni dell'infanzia sono stati attivati progetti di potenziamento e di recupero delle competenze. Abbiamo preparato delle picotte che venderemo a dicembre, in un mercatino di Natale. Queste bambole vendranno vendute all'UNCEF, che le daranno ai bambini meno fortunati. I progetti sono curriculari, con tempi distesi e non in orario giuntivo per i docenti. Prezioso è il contributo degli esperti esterni, altamente qualificati. Noi creiamo le condizioni affinché si vada verso l'inclusione. Dalle prime, diciamo, classe della scuola materna. Perché l'inclusione non è un qualche cosa che viene dall'alto, ma viene elaborata, viene vissuta. E quindi attraverso il progetto di Special Inps Young Athleta, noi stiamo facendo un programma che mette assieme, attraverso il gioco, disabile e non. Oltre a questo obiettivo di carattere sociale e dal punto di vista futuristico sportivo, con sport unificato, noi diamo degli elementi di carattere psicomotorio, proprio per fare in modo che attraverso il corpo vada a migliorare anche quelle che sono i prerequisiti per la scrittura, la lettura, cioè i concetti di carattere cognitivo. La coordinazione è tutta qua. Si è svolto presso l'Istituto Comprensivo Gela e Butera, scuola secondaria di primo grado, Enrico Mattei di Gela, nel presso Cantina Sociale di via Pablo Plicasso, un incontro sul tema salute e prevenzione, rivolto alle classi terze, dal titolo Obesità e i benefici del movimento. L'incontro, proposto ed organizzato dal dirigente scolastico Agata Quelli e dall'Asp di Galtanissetta, distretto sanitario di Gela, è stato condotto da Salvatore Migliore, direttore dell'Unità Operativa di Epidemiologia delle Malattie Cronico-Degenerative, e da Giuseppe Chiantia, fisiatra, responsabile distrettuale di fisiatria. Nel corso dell'incontro si è discusso di stili di vita connessi al nostro corpo, di abitudini alimentari di massa muscolare. I ragazzi della Mattei hanno potuto conoscere e approfondire il concetto globale di salute, cioè dire fisica, mentale e sociale. La scrittrice Silvia Scolla, palermitana, residente a Gela, autrice del testo teatrale inedito Castelli Carta sulla sabbia del tempo, ha ricevuto il fiorino d'argento istituito alla 33esima edizione del premio Firenze. La cerimonia di primazione si svolge oggi nel Salone del 500 di Palazzo Vecchio, nel capoluogo toscano. E ora la nostra consueta rubrica quotidiana in breve. Proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Ogni giorno, fino al 7 dicembre, nella parrocchia San Francesco d'Assisi sono previste la preghiera del rosario e canto dello stellario, celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai gruppi cittadini. Oggi alle 18 eucaristia con la presenza dei giovani e dei devoti costituiti in associazioni portatori dell'Immacolata, con consegna dell'abito e benedizione. Alle 19 e 30 la corale polifonica, perfetta Letizia, regalo, omaggio a Maria. Natale in casa Cupiello. Si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17 e 15 alle 21 e 15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela. Sul palco Enrico Guarneri. La regia è di Antonello Capodici. Per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni 0 933 91 18 92 oppure 345 58 80 580. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30. Arriva il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero. Venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro. E venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933-911-892 oppure 345-5880-580. Corri con papà Natale, sesta edizione, si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9 e 30 in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Sport, presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347 5799 271. Si svolge oggi in 5 supermercati di Gela la decima raccolta alimentare promossa dall'associazione di volontariato Gioia nel Dare, finalizzata a perseguire esclusivamente solidarietà sociale. Gioia nel Dare basa tutto su carità, gratuità e solidarietà. Ad oggi sono servite circa 90 famiglie in stato di indigenza, suddivise per fasce di reddito e nucleo familiare. I beni di prima necessità, prodotti per l'igiene, giocattoli per bambini e vestiario, vengono consegnati ogni mese. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale, fondato e diretto da Rocco Cerro. Beffati e gabbati, non c'è pace per i defunti. Un paio di confraternite tardano a mettersi in regola e il comune nega loro l'agibilità. Ci vanno di mezzo i defunti che non possono riposare nei locali che in vita hanno acquistato a costo di grossi sacrifici, storia di affari e di lassismo. E' a questo argomento che il giornale riserva l'apertura della prima pagina. Lucrezia Ferro intervista il comandante dei Carabinieri Marra ed il vicequestore Marino sullo stato di salute dell'ordine pubblico in città. Bilancio di un'annata tutto sommato positivo. Dopo l'onorevole Arancio, nello scorso numero, il Corriere di Gela da spazio e voce all'altro deputato gelese a Lars, l'onorevole Pino Federico Passato, a Forza Etalia, il quale dichiara a Filippo Guzzardi di non sapere ancora se si ricandiderà alle prossime elezioni. Giulio Cordaro, nella sua rubrica settimanale, politicamente scorretto, ironizza sul linguaggio della politica e del sindacato quando dicono che bisogna convocare i tavoli. Altri articoli di politica di Nello Lombardo e Filippo Guzzardi, mentre all'interno, nella pagina della Cultura, segnaliamo un omaggio di Gandolfo Cascio a Pierpaolo Pasolini nel quarantennale della sua scomparsa. Ed infine lo sport, con i commenti di Orazio Comandosi, campionati di calcio, di eccellenza e promozione, chiude il giornale, la pagina degli annunci economici. Ci fermiamo, linea allargia per la pubblicità. Bentornati studio per la seconda parte del nostro telegiornale. In occasione delle festività del Natale, l'unità Alzi sotto sezione di Gela sarà presente il 12 e il 13 dicembre prossimi in piazza Umberto I, in via Palazzi, angolo via Albania, in via Le Corte Maggiore, nei pressi dei muretti di Macchitella e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative e di far vivere dei momenti di condivisione fraterna e diversamente abili. Cambiamo argomento, parliamo di sport, c'è il calcio. Buon pareggio ieri per il Gela nell'ambito della tredicesima ad andata in eccellenza. La formazione di Totò Bruculeri ha raccolto un punto sul difficilissimo campo del Castelbuono dopo aver gustato il successo per quasi tutta la gara, grazie al gol realizzato al 36esimo del primo tempo dall'attaccante Maurizio Nassi. Il pareggio dei locali è giunto a 4 minuti dalla fine della contesa. Il Gela occupa la quarta posizione in classifica, quota 24 ad un solo punto dal Paceco terzo e a meno due punti dal Dattilo Noir secondo, sconfitto tra le mura amiche dal Mazzara. Domenica prossima al Presti sfida proprio al Dattilo Noir. C'è una nuova capolista, si tratta della San Cataldese che ieri ha sonoramente battuto per 4-0 la Libertas. Nel campionato di promozione l'Atletico Gela ferma la marcia della Nissa. Si interrompe infatti dopo 12 vittorie di fila e il record dei biancoscudati ieri al Presti è finita infatti 0-0. Vediamo. Si ferma allo stadio Vincenzo Presti la scia di vittorie consecutive della Nissa contro l'Atletico Gela di Mr. Peppe Misiti. I biancoscudati non vanno oltre lo 0-0, continuando comunque ad inanellare risultati positivi e mantenere invariato il distacco dall'inseguitrice Licata. Ai padroni di casa il merito di essere riusciti a bloccare la corazzata Nissa è di avere disputato una grande gara senza tanti timori reverenziali e soprattutto senza barricate cercando, anzi per tutti i 90 minuti, di mettere in difficoltà l'avversario. Atletico Gela in campo con 3 dei 5 innesti arrivati in questa finestra di mercato ovvero il centrocampista Fayet, il difensore Fama ed il portiere Polessi, quest'ultimo determinante in due frangenti. Ospiti invece che mettono subito in campo il neo arrivato Musumeci. La gara nei primi 30 minuti rimane bloccata e noiosa. Alla 33esimo ci prova Asia dalla distanza con il portiere Amendola che salva la porta mandando in calcio d'angolo. Sul successivo tiro della bandierina lo stesso attaccante Giororosso tenta una parabola di testa salvata prima sulla linea di porta da Di Maria e poi dalla traversa. Alla 46esimo ci prova Zarba con un'azione personale ma viene steso da Italiano al limite dell'aria. Punizione ed ancora una volta Asia che fa la barba al palo con un fendente velenoso. Primo tempo che termina così a reti inviolate. Nella ripresa al 63esimo ci prova il neo acquisto biancoscudato Musumeci a tentare la via del golla da posizione ravvicinata ma è strepitoso l'intervento dell'estremo difensore Giororosso Polessi che para distinto. Passano due minuti e l'attratico Gela reclama un calcio di rigore per un fallo in aria su Argetta lanciato in porta ma l'arbitro vede solo una sicurazione del terzino Giororosso che viene ammonito. Poco dopo è ancora Polessi a sbarrare la strada alla conclusione di Di Franco. Ospiti che al 70esimo perdono per infortunio Bognanni costretto a lasciare il terreno di gioco anzi tempo al suo posto entra Bevilacqua. Nissa che reclama un calcio di rigore al 74esimo per un fallo in aria su Di Franco. Al 72esimo un'azione insistita da parte di Navanzino che si libera bene di un paio di avversari servendo Asia ma quest'ultimo calcio ha debolmente sua Mendola che ringrazia. Il tempo di vedere il tiro potente dalla distanza corpalla deviata in angolo da Di Maria che cala il sipario sul match finisce 0-0. E a fine partita Flavio Centamore ha raccolto per noi la testimonianza dei protagonisti. Sentiamo. Il merito di aver bloccato la striscia positiva di vittoria della Nissa, comunque un ottimo atletico Gela che avrebbe meritato se l'arbitro avesse concesso quel calcio di rigore e alla fine anche la vittoria. Ma devo dire, oggi abbiamo fatto una grande partita. La Nissa è prima in classifica ma non si è visto, devo dire. Noi abbiamo giocato tutti i due tempi, abbiamo fatto bene, abbiamo creato palle gol, un rigore nettissimo. Il mio portiere ha fatto soltanto una parata però per una squadra come la Nissa che ha a fior di giocatori che hanno militato in Serie C e per me fermarla è un orgoglio. Nella sua squadra mancavano Nicotra, quindi un non faro al centrocampo. Si è sentita la sua assenza oppure no? L'assenza di Nicotra è importante per la mia squadra e per il gioco. Però devo dire che Navanzino è stato bravissimo, ha fatto un'ottima partita. Giustamente è un giovane che deve ancora migliorare, deve crescere. Si poteva fare qualcosa in più, però sono contento così. È un atletico a Gela che vuole consolidare la posizione nella griglia playoff. Ma sì, noi abbiamo preso cinque giocatori di cui tre hanno giocato oggi. Poi c'è Messana, Bessio, quindi la squadra è stata rinforzata. Sicuramente cercheremo di dare filo da torcere a tutti. Si diceva questa inizia che era imbattibile, però alla fine l'atletico a Gela è riuscita a levare questa corona dell'imbattibilità nazionale. Quindi noi siamo orgogliosissimi e va bene per noi il pareggio. Un atletico a Gela che poteva anche sbloccare il risultato e portare a casa tre punti se l'arbitro avesse concesso un rigore, a mio avviso sacrosanto, su Argetta. Si è visto il rigore che era fortemente accettabile da parte nostra perché comunque c'era tutto il pubblico che ha ricominato il rigore, anche il Guardialini, però l'albitro evidentemente già quando vengono sanno, secondo il mio parere, quello che fanno. Certamente non è riuscita a fare vincere la Nista, però va bene così. Noi abbiamo cercato di fermarla e ci siamo riusciti. Sempre nel campionato di promozione è andata malissimo al Macchitella Gela. I ragazzi allenati da Mirko Fausciana, reduci da tre vittorie di fila, sono stati battuti infatti per 4 a 1 dall'atletico Caltanissetta, un K.O. pesantissimo contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. C'è l'informazione cinematografica, è 11 donne a Parigi, il film in programmazione al Cineteatro l'antidoto di Macchitella Gela, sono tre gli orari di rotazione della pellicola, ve li ricordiamo, 17.30, 19.30 e 21.30. Lunedì 28 dicembre alle 21, la compagnia teatrale antidoto porterà in scena Nabriscola, commedia in tre atti di Tiziana Guarneri, la regia è affidata a Giancarlo Bella. Bene, tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, aver eseguito anche oggi la nostra informazione, vi ricordiamo che notizie, servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it, vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato, grazie e buon inizio settimana a tutti.